Grande successo per l'apertura di Natale a Montbaroccio. Nonostante le condizioni meteo non favorevoli, sono state due giornate piene di soddisfazioni e grandi emozioni. La manifestazione ha avuto il suo via con una grande carica grazie anche all'interpretazione dei biancottoni microband che hanno emozionato il pubblico per le vie e piazza. Tantissime idee regalo rigorosamente artigianali. Lungo le vie invece i visitatori si sono immersi nelle tante attrazioni presenti tra cui la Casa di Babbo Natale e la pasticceria organizzata in collaborazione con l'Istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro. Quest'anno faremo questo laboratorio, tutte le volte che c'è la manifestazione faremo nella Casa di Babbo Natale a fare con i bambini i biscotti alla frolla, li impasteremo con loro, faremo le varie formine, li decolleremo, li facciamo un po' vedere come si fanno i biscotti natalizi. A Montbaroccio non è mancato il profumo dei tanti sapori all'interno del chiostro, diversi prodotti enogastronomici tra cui miele, formaggi, salumi e tanto altro. Momento magico invece è arrivato con la neve che invaso Piazza Barocci, il fulcro centrale del borgo medievale. Siamo al doppio degli ingressi dello scorso anno come primo weekend, quindi uno straordinario successo che dimostra l'impegno, l'amore e la passione dei nostri volontari. Proseguiamo per altri due weekend, tantissime le attrattive soprattutto per i bambini.